Riprendiamo il discorso delle diverse donne che mi chiamano al telefono, semplicemente mi fanno solo domande, ma niente di più di concreto. Vuoi dire che non ti lasciano un recapito? Facciamo un esempio, l'ultima una signorina che si è fatta sentire come nome di Anna Lisa alla quale io personalmente non la conosco, che più di una volta ho cercato di darci un appuntamento per conoscerci, ma lei sempre con la sua calma e con la sua disinvoltura mi ha sempre chiesto che le cose pian piano vengono con sé, ma purtroppo qua i frutti non si vedono. Allora facciamo un appello a questa signora senza fare nomi. Senza fare nomi. Tu hai detto... Il nome non fa. Il nome l'hai fatto, vabbè. Però... Però mi piacerebbe moltissimo conoscerla proprio personalmente e direttamente, ecco.